Grazie a tutti. I would personally like to express my deep gratitude to this wonderful group who's helped put this Deepfoe project together. The scholars, the restorers, the museum curators of both the city and the superintendents' office and of the opera di Santa Croce. Their efforts have really been incredible. I would personally express my gratitude to this great group, this wonderful group of studios, restaurators, curators of museums, sia da parte comunale che da parte della superintendents' office, anche dell'opera di Santa Croce, e tutto questo gruppo meraviglioso che si è sforzato realmente per portare avanti questo progetto. I'd also like to thank Linda Falcone, who is standing up there, who happens to be the executive director of EWA, for really putting this, pulling this whole thing together. She deserves a big, big, big thanks and a hug. Sì, ringrazio anche, mi piace da Bianca ringraziare Linda Falcone che ha aiutato, ha facilitato tutto questo progetto, e merita un ringraziamento e un abbraccio. E vorrei anche estendere un ringraziamento speciale a Silvia che realmente ha fatto un lavoro formidabile per l'avanzamento di questo artista, Felice De Pauvo, che finalmente sta trovando il suo posto all'interno della storia dell'arte. This is really part of the mission of EWA, to discover lesser known artists and bring them into the light, from invisible to visible. It's our hope that this project will set an example for researching and safeguarding art by women in Florence for the future. It's very, very, very important that we have more and more of these conferences, more and more of this bringing these little known artists, lesser known artists, to the public, so that you all can learn about them. They are your history. Diciamo che parte della missione dell'Advancing Women Artists Foundation è quello di scoprire e salvaguardare le opere di donne artiste e quindi renderle da invisibili a visibili. quindi noi e la nostra speranza che questo progetto sarà o diventerà un esempio anche per il futuro in modo che queste opere e queste donne possano essere rivalorizzate perché realmente fanno parte della vostra storia e della storia di questa città. Thank you. Grazie